Per quello che ha fatto l'Atalanta in questo susseguirsi di partite, di risultati, dimostra di essere sicuramente equiparabile a una primissima. E quindi sono curioso, ma credo che sia un po' anche il desiderio di tutta la squadra, quella di misurarsi contro una realtà che sta facendo così bene. Una realtà fatta di tanti giovani, fatta di tanti giocatori che stanno anche emergendo, insieme a alcuni che sono chiaramente più affermati. E qui si misura veramente lo spessore. Come ho detto ai ragazzi fin da lunedì, l'Atalanta è una squadra che sta dimostrando la continuità nei risultati e noi no. Quindi questa è una crescita che dobbiamo assolutamente cercare di fare e di ottenere. Domenica abbiamo fatto un ottimo risultato contro il Palermo, adesso ci sono ulteriori difficoltà, ma noi dobbiamo sapere attingere sempre a tutte le nostre qualità, a tutte le nostre motivazioni che non sono solo legate al gesto tecnico. Questo mi aspetto, questo voglio, questo è il mio obiettivo anche da allenatore, non soltanto quello di saper far correre una squadra e saper trattare bene il pallone. Perché poi credo che dal punto di vista qualitativo magari ci sono squadre che sono più o meno sullo stesso livello. Poi però ci sono degli atteggiamenti mentali che fanno veramente una grande differenza. Noi questo dobbiamo essere capaci a dargli un po' più di continuità. L'Atalanta in queste ultime partite, in questi due mesi, è riuscito a farlo e questo fa veramente un'enorme differenza. Quello che mi interessa è trasferire ai ragazzi determinati concetti che non sono solo legati a quello che è poi la prestazione atletica, come ho detto prima in campo, ma soprattutto a livello mentale. Questa squadra, la mia squadra, è una squadra che se ancora dobbiamo trovare dei limiti, soprattutto a livello caratteriale, è di che dobbiamo riuscire ancora a dare grande continuità. Se riusciamo a fare questo, allora potremmo trovarci anche in situazioni come possono essere quelle dell'Atalanta di oggi. Ma il vero grande salto, la vera grande difficoltà è proprio questa e non è semplice. Grazie.